Kim Jong-nam, fratello per parte di padre del leader nordcoreano, potrebbe essere stato ucciso col gas nervino, secondo le conclusioni preliminari dell'autopsia sul suo corpo. Kim Jong-nam è stato ucciso lo scorso 13 febbraio nell'aeroporto di Kuala Lumpur in Malaisia, mentre attendeva un volo per Macao. Secondo quanto accertato, l'uomo sarebbe stato avvicinato da due ragazze che gli hanno versato del liquido sul volto. La polizia, per bocca del suo ispettore generale, sostiene sia stato impiegato il famigerato elemento VX, già usato in passato da agenti segreti nordcoreani. L'omicidio di Kim Jong-nam ha peggiorato i rapporti bilaterali tra la Malaisia e la Corea del Nord. Pyongyang bolla le indagini malesi come piene di lacune e di contraddizioni, mentre Kuala Lumpur non esclude responsabilità del regime comunista nell'omicidio. Finora quattro persone di diversa nazionalità sono state arrestate ed altre sette, tutte di cittadinanza nordcoreana, sono tuttora ricercate.